È la festa di San Rocco. Piacenza, in via Legnano, gli ha dedicato una chiesa, riconducibile al 1476, vicino ad un presistente ospitale per i pellegrini sulla via Romea. Nell'interno ha freschi di pittori quattrocenteschi, statua a linea del Cristo morto, della Madonna addolorata. Nel presbiterio è posta una statua del santo e del cagnolino, risalente alla fine del Cinquecento. Per tutta la giornata, visite, celebrazioni, messe cantate, la distribuzione dei panini benedetti, resiste la devozione al santo. Perché, come sappiamo, non solo nella nostra diocesi ma un po' in tutta Italia, San Rocco è una figura conosciuta, venerata e quindi sono vari gli oratori. Io sono di Metti e anche a Metti c'è un bel oratorio, abbastanza grande, dedicato a San Rocco. Quindi è la figura di questo pellegrino, di questo pellegrino vissuto nel XIV secolo che attrae proprio per la sua esperienza di pellegrino e cammin facendo ha fatto molta attenzione alle persone che incontrava e soprattutto per gli ammalati. Situata a meno di 100 metri in piazza del Duomo, il mercato settimanale. Il Servizio Attività Economica del Comune informa che il mercato settimanale si svolgerà regolarmente ma la vamella all'ingrossa, dicono gli ambulanti. Tutti i mercati sono calati, soprattutto questa settimana non c'è nessuno in giro quindi veniamo perché dobbiamo venire, però le spese sono sempre quelle. Non c'è di gente in movimento, saranno ancora in ferie, su in colline magari. Ma una volta era il mercato dei francesi, degli inglesi in vacanza sulle nostre colline e venivano in città. Infatti a Betola c'erano, c'erano dei miei amici che lunedì hanno fatto il mercato, hanno visto dei francesi così ma in città qua non ce ne vede. Pochi i turisti, meta quasi sempre la cattedrale, spalancata la porta centrale. Mancano tante bancarelle, qualche spazio occupato da occasionali venditori, regolari. Commercianti di spunta, se c'è posto si piazzano, con le indicazioni degli agenti della polizia municipale. Per Ferragoso sembra che è stato così. Ma di solito venivano gli stranieri. No, non ce neanche gli italiani stanno, tutti in ferie. Io prevedevo invece un mercato, perché questo mercato non si sa bene, poteva essersi gente, no. Io invece oggi prevedevo e c'è un mercato molto passo, detto in Piacentino, sì, è vero. E poi glielo ho detto, mi ripeto, il problema non è, noi italiani ormai siamo un po' pressati. Niente altro da aggiungere. Spiagge e montagne piene, piccole città deserte, Piacenza non fa eccezione. Il ponte di Ferragosto, a vedere dalle presenze, proprio come ci si attendeva. Poco gente, strade tranquille. Domani, beh domani è un altro giorno. Domani, beh domani è un altro giorno.